Un po' di video per parlare di un concetto molto diffuso nel discorso politico contemporaneo, quello di multipolarismo, un concetto spesso però frainteso, tant'è vero che spesso viene criticato sulla base del fatto che si intende per multipolarismo qualcosa che effettivamente non è tale, quindi è bene entrare un po' nel dettaglio. Partiamo dal concetto di polarità. Nelle relazioni internazionali per polarità si intende la distribuzione del potere tra gli attori politici, cioè tra gli stati, e gli studiosi hanno rintracciato tre diverse configurazioni. La prima è l'unipolarità, in cui esiste un unico polo, un'unica superpotenza che possiede la gran parte del potere e non incontra nessun contrasto, nessun freno alla propria azione. Un esempio è quello degli Stati Uniti dopo la fine della Guerra Fredda, quando sono rimasti egemoni incontrastati a livello globale. Secondo la bipolarità, in questo caso invece abbiamo due grandi blocchi guidati da due superpotenze in opposizione l'una all'altra, e questo ovviamente ci rimanda al mondo della Guerra Fredda, in cui esistevano due blocchi, quello occidentale guidato negli Stati Uniti, che era anche quello più forte, e quello orientale comunista guidato dall'Unione Sovietica. Infine, il concetto di multipolarità, ovvero l'esistenza di tante grandi potenze, nessuna delle quali è sufficientemente forte per improvvare la propria egemonia a tutte le altre, ed è, diciamo, il caso in particolare del cosiddetto concerto d'Europa, concerto delle nazioni, cioè dopo il congresso di Vienna, fino alla prima guerra mondiale, e di fatto anche fino alla seconda. Cambiano gli attori, ovviamente questi attori non hanno lo stesso potere, ad esempio l'impero britannico era una superpotenza già all'epoca, e tuttavia non aveva la stessa egemonia incontrastata che avranno gli Stati Uniti cent'anni dopo. Quindi queste sono, diciamo, le tre possibili opzioni. Multipolarità però non va confuso con multilateralità, sono proprio due concetti diversi, perché la multipolarità abbiamo visto che è la presenza di più attori politici dotati di potere, mentre invece la multilateralità è quando un'azione, la politica internazionale, è portata avanti da più attori, tra loro concordi, a differenza dell'unilateralità che invece vede l'agire di un singolo attore in maniera arbitraria o comunque conforme ai propri interessi individuali. Multipolarità però non va nemmeno confuso con il concetto di multiallineamento. Questo è un'evoluzione del precedente concetto di non allineamento, perché in un contesto bipolare come quello che aveva fredda, tutta una serie di paesi normalmente in via di sviluppo, paesi del cosiddetto terzo mondo, terzo perché distinto sia dal primo mondo occidentale liberal-capitalista, che dal secondo mondo orientale social-comunista, rivendicavano il fatto di essere in qualche modo esterni a questa contrapposizione e quindi di mantenere buoni rapporti con entrambi i blocchi. Adesso ovviamente in presenza di più blocchi di potere, di più poli, questi stessi paesi tendenzialmente, che rimangono un po' esclusi, quello che possiamo definire il club delle grandi potenze, rivendicano appunto il multiallineamento, cioè il fatto di continuare a mantenere buone relazioni con diversi di questi blocchi al tempo stesso e quindi in qualche modo senza legarsi in maniera esclusiva a uno solo di questi appunto poli. Ovviamente questo discorso a polarità non è una questione puramente teorica, ma porta direttamente a una discussione sulla stabilità di queste configurazioni di potere, cioè quanto è probabile che possano nascere dei conflitti e soprattutto dei conflitti su vasta scala. Ovviamente su questo gli studiosi di azioni internazionali non sono concordi, perché il loro punto di vista dipende anche dalle scuole di pensiero a cui fanno riferimento e quindi c'è un vivo dibattito a livello accademico in materia. Ad esempio, se si parla di unipolarità, gli studiosi hanno sotto gli occhi il caso degli Stati Uniti d'America nel presente, ebbene da una parte si sostiene che sia un sistema tutto sommato stabile e sostenibile a lungo termine, perché gli Stati Uniti hanno comunque costruito un'architettura globale, quello che è comunemente chiamato l'ordine internazionale basato sulle regole, in cui ci sono istituzioni politiche multilaterali come Nazioni Unite, esiste un sistema finanziario e economico basato sul dollaro come valuta di riserva, quindi una valuta statunitense, che garantiscono che questo sistema regga. Altri però hanno fatto notare che è un sistema che si regge comunque sull'arbitrio della potenza egemone, tant'è vero che, dati alla mano, gli Stati Uniti sono stati in guerra per molto più tempo in proporzione dopo 1989 piuttosto che non negli anni precedenti. Quindi in particolare i conflitti come quello in Iraq, in Afghanistan, dall'altra parte del mondo, sulla base di una responsabilità di intervenire globale, che va al di là di quello che possono essere gli interessi specifici della grande potenza. Lo stesso dibattito ovviamente lo troviamo anche nel caso della multipolarità, in riferimento alla Guerra Fredda, per cui da un lato le due superpotenze sono più inclini a dividersi il potere, a spartirsi le zone di influenza e quindi evitare un conflitto diretto, dall'altra però ci sono degli elementi di instabilità nel momento in cui cambiano i rapporti di forza. Infatti in diverse occasioni si è esplorato il conflitto tra i due blocchi. Infine nel caso la multipolarità avviene, secondo molti studiosi, il cosiddetto Balance of Powers, cioè l'esistenza di tante grandi potenze crea una stabilità generale, perché queste grandi potenze possono espandere il proprio potere senza sfidare direttamente le altre. E anche nel momento in cui avvenisse un conflitto tra due di queste potenze, esempio classico della storia ottocentesca, la guerra franco-prussiana, la guerra tra Francia e Austria per il nord Italia, la guerra di Crimea che avviene in una parte limitata del territorio russo, tutti questi casi altri grandi potenze rimangono però sullo sfondo e possono esercitare un ruolo in mediazione. Viceversa però è stato anche fatto notare che nel momento in cui si formano i sistemi di alleanza, allora c'è il rischio che sorga il cosiddetto chain ganging, cioè nel momento in cui scoppia un conflitto tra due potenze, allora anche le altre si trovano a unirsi al conflitto, come è accaduto nel 14. Questi sono, diciamo, i due grandi esempi, in positivo il concerto delle nazioni e in negativo le guerre mondiali della stabilità o meno di un sistema multipolare. Tra l'atto pratico è dopo chiederci, siamo già in un'epoca multipolare oppure siamo ancora in una fase unipolare, cioè in cui gli Stati Uniti mantengono la propria egemonia come unica superpotenza. Ora, in realtà, secondo alcuni studiosi, viene in mente Huntington, l'egemonia statunitense non è tale da essere assolutamente incontrastata. Huntington, che scrisse il famoso testo sullo scontro di civiltà e quindi sull'esistenza di diverse civiltà oltre a quella occidentale, parlava in realtà di un sistema misto, in cui sì, c'era una superpotenza egemone negli Stati Uniti, ma c'erano anche grandi potenze minori. In realtà, va detto che la maggior parte di queste grandi potenze erano comunque nell'orbita statunitense. Reguantiamo il G7 dell'epoca, tre di questi paesi, Italia, Germania, Giappone, sono occupati militarmente agli Stati Uniti. Canada, Francia e Gran Bretagna sono storici alleati statunitensi fin dalla Seconda Guerra Mondiale. All'epoca era il G8, c'era anche la Russia, che però, con gli essi, nei primi anni della presidenza di Putin, era rimasta comunque acquiescente nei confronti degli Stati Uniti, cercando di ottenere un proprio spazio all'interno dell'ordine unipolare guida statunitense. Quando è che inizia quindi la transizione al multipolarismo? Beh, io individuerei come data, se vogliamo porre una data precisa, l'agosto del 2008, in cui negli stessi giorni la Russia interviene militarmente in Georgia, quindi interviene al di fuori dei propri confini per tutelare la propria sfera di influenza, e contemporaneamente la Cina ospita le Olimpiadi di Pechino 2008, quindi mostrandosi al mondo come ormai una grande potenza. Infatti l'anno successivo ai Katerinburg vengono fondati ufficialmente i BRICS, e quindi inizia questo periodo di ascesa delle grandi potenze emergenti nella prospettiva di arrivare a un mondo multipolare. Ora, questa transizione, a mio giudizio, non si è ancora conclusa, nel senso che l'ordine internazionale basato sulle regole di cui parlano i politici occidentali, cioè tutto questo sistema politico, economico, culturale, occidentale, a guida statunitense, è ancora egemone. Infatti gli avversari, cioè le grandi potenze, che vogliono sfidare quest'ordine, nel caso della Cina, in maniera più sfumata e in maniera essenzialmente economica, nel caso della Russia, in maniera ormai militare, muscolare, aggressiva. Ma comunque sia Cina che Federazione Russa giocano in un certo senso di rimessa, sono sulla difensiva al momento. Soltanto quando effettivamente gli Stati Uniti riconosceranno la chiusura della loro fase unipolare, così come la Russia dopo il collasso nel Sovietico aveva riconosciuto ormai l'egemonia incontrastata statunitense, così come Francia e Gran Bretagna nel 1945 avevano riconosciuto di essere ormai una posizione di secondo piano rispetto ai Stati Uniti e all'Unione Sovietica, proprio per anche una questione di scala economica e militare. In quel momento allora, a mio giudizio, potremmo definire conclusa questa transizione e, diciamo, al termine di quella che viene definita dal Sommo Pontefice, ma anche da molti analisti, Terza Guerra Mondiale a pezzi, aver assistito così al passaggio a un sistema multipolare compiuto. Ma, a mio parere, ci vorrà ancora del tempo. Poi a margine ci si può anche chiedere se questo esito sia inevitabile, cioè se gli Stati Uniti dovranno in qualche modo ridimensionare la propria egemonia globale in favore di un ordine multipolare. La storia è sempre aperta, tuttavia va riconosciuto che vi sono anche delle ragioni strutturali importanti in termini dell'importanza economica, politica, militare che stanno mano a mano acquisendo le potenze emergenti e che impongono come minimo ripensamento del ruolo giocato negli Stati Uniti all'interno dell'arena internazionale. Tuttavia, proprio questa transizione in atto sta, a mio giudizio, ingenerando una serie di errori di prospettiva, la cui fallaccia è piuttosto evidente, ma che sono comunque molto diffusi a causa di una errata visione della realtà in atto. Uno di questi errori, anche il più evidente, è confondere il multipolarismo con il bipolarismo, che è un rettaggio della Guerra Fredda. La Guerra Fredda vi erano due grandi blocchi caratterizzati a due superpotenze guida, Stati Uniti e Unione Sovietica, ma anche due ideologie contrapposte, liberalismo e capitalismo a livello economico una parte, e l'altra parte il marxismo e il comunismo. E quindi entrambe le ideologie, tra l'altro, cercano di espandersi e raggiungere tutto il mondo, quindi era una lotta tra due sistemi completamente diversi. Oggi invece assistiamo a uno scontro tra l'Occidente che vuole difendere lo status quo unipolare. Dall'altra parte, ovviamente, abbiamo nei BRICS una serie di paesi alcuni, nel caso della Cina, possono parlare di una superpotenza economica, anche se non politica e militare. Altre, come India e Russia, sono grandi potenze, dotate di arma nucleare, ma sicuramente non sullo stesso piano di Stati Uniti e Cina. E ovviamente i BRICS hanno tutti gli interessi a portare avanti l'affermarsi di un mondo multipolare. Ma non costituiscono un blocco ideologico, unico, non costituiscono un blocco unitario. Sono potenze diverse che trovano molto vantaggioso sostenersi a vicenda, e questo vale per un rapporto molto stretto, praticamente un'alleanza tra l'arrivo popolare cinese da una parte e la federazione russa dall'altra. Ma anche qua, con una forte diversità, in termini strategici, la dirigenza cinese sicuramente non voleva una guerra di questo genere in Ucraina. Però al tempo stesso non può abbandonare la federazione russa, perché questo rafforzerebbe gli Stati Uniti, globalmente parlando. Al tempo stesso, l'esempio dell'India è evidente. L'India ha continuato a sostenere comunque la Russia dal punto di vista economico, rifiutandosi di isolarla. Fa parte della Shanghai Cooperation Organization insieme alla Russia, ma anche insieme a rivali come il Pakistan e la Cina, e al tempo stesso fa parte del Quad con Australia, Giappone e Stati Uniti per il contenimento della Cina. Ma questo non significa che l'India stia dalla parte dell'Occidente, e non significa nemmeno che l'India stia dalla parte della Cina o della Russia. Semplicemente l'India segue una propria politica che, da un lato, favorisce i BRICS nella misura in cui questi porteranno a un diverso assetto globale. E dall'altro, ovviamente, difende i propri interessi nazionali distinti e a volte in conflitto con quelli degli altri BRICS. E per i BRICS questo, da un lato, è, se vogliamo, una debolezza, nel senso che non c'è una strategia unica, il com interne o il Cominform, con sede a Mosca, che coordina la lotta ai stati socialisti contro l'imperialismo. Ma è anche un punto di forza, perché vuol dire che anche potenze che avrebbero dei forti dissapori con altri membri dei BRICS, questo ovviamente fa sì che proprio un'adesione flessibile consenta di acquisire ai BRICS, cioè alla causa del multipolarismo, una portata molto più ampia rispetto a quanto potesse avere il blocco sovietico, che invece era legato a un'ideologia ben precisa e quindi all'adozione di quella ideologia a livello politico, mentre né Cina, né Russia, né India hanno il minimo interesse a imporre, a diffondere particolari ideologie. Anzi, se nei BRICS vogliamo trovare un'ideologia, questa è un'ideologia che prevede che ogni civiltà, ogni nazione abbia delle proprie caratteristiche e quindi debba trovare un sistema politico adatto a queste caratteristiche nazionali. La seconda critica, che è quella più seria a mio giudizio, si pone la domanda legittima se il mondo multipolare sarebbe più stabile, cioè meno conflittuale, rispetto al mondo unipolare. Sostanzialmente troviamo in realtà due teorie nell'ambito delle azioni internazionali, la hegemonic stability theory e la balanced powers. Hegemonic stability theory prevede che effettivamente l'egemone abbia tutto l'interesse a mantenere la pace e quindi la Pax americana, oggi a Pax romana in passato, la Pax sinica che l'impero cinese esercitava in Asia orientale, o ancora la stessa storia ottocentesca viene letta quindi come un'epoca di relativa pace tra 1815 e 1914, garantita dalla Pax britannica, cioè dal dominio dei mari da parte della Royal Navy, non tanto al concerto delle nazioni. E d'altra parte invece balance of powers è la teoria che insiste sul bilanciamento tra tante grandi potenze per assicurare la pace internazionale. Viene fatto l'esempio però della prima guerra mondiale con queste grandi potenze distinte che finiscono per scontrarsi. Ora, io vorrei però far osservare che nel mio 114 abbiamo una situazione che è ibrida tra il multipolarismo e il bipolarismo, perché ormai si erano formati a inizio del Novecento due grandi blocchi di alleanze. Da una parte la triplice intesa, come è noto, Gran Bretagna, Francia e Russia. Tra l'altro Gran Bretagna e Russia per tutto l'Ottocento invece erano rivali, erano in conflitto tra loro, quindi è una novità di fine secolo, soprattutto inizio del Novecento, che porta alla guerra mondiale, perché d'altra parte c'è invece la triplice alleanza, Germania-Austria-Ungheria-Italia, e questa concreta nazione di alleanza porta a deplagare la guerra mondiale. Nell'Ottocento invece la situazione era più equilibrata da questo punto di vista. E andrebbe anche osservato che nell'Ottocento, in particolare alla fine del secolo, con l'età dell'imperialismo, abbiamo questi blocchi coloniali che avevano tutti la testa in Europa. Quindi in Europa abbiamo una concentrazione di poli, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, i cui capitali sono a poche centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro, poi con questi corpaccioni enormi estesi in tutto il mondo, questi imperi coloniali molto vasti, ma la sede del potere di questi poli era tutto nell'Europa occidentale sostanzialmente, diciamo tra Londra, Vienna, qualche eccezione. E invece il multipolarismo futuro sarà molto diverso, perché effettivamente troviamo che le grandi potenze non saranno tutte appartenenti a una stessa civiltà occidentale, bensì tenderanno anche a coincidere, se vogliamo, con quelli che Huntington chiamava gli stati guida delle varie civiltà. Quindi l'India, quindi la Cina, quindi la Russia, e quindi ovviamente la formazione di blocchi con proprie sfere di influenza che in un certo senso sono quasi, tra virgolette, naturali. Cioè tendono a corrispondere a quelle che sono già delle sfere culturali distinte. Lascio per ultima invece l'accusa agli sostenitori del multipolarismo di essere sostanzialmente terzomondisti, perché è un'accusa non soltanto obbecera ai confini del razzismo, ma sostanzialmente inconsistente, perché è un fattore contingente del fatto che i BRICS siano paesi extraeuropei. E vediamo però che Brasile e Russia hanno classi dirigenti con una forte impronta europea, per esempio. Nulla toglie che l'Europa diventi un proprio polo, che l'Europa approfondisca le proprie divergenze storiche molto radicate, tra l'altro con l'Occidente a guida statunitense, diciamo di cultura anglo-sassone, e invece rivendica un proprio status come polo a sé. Quindi è falso che il multipolarismo favorisca le potenze extraeuropee, se non nella misura in cui le potenze extraeuropee sono quelle che hanno state escluse dai sistemi precedenti, tanto il multipolarismo delle grandi potenze europee imperialiste, poi il bipolarismo statunitense-sovietico, poi l'unipolarismo a guida statunitense, e ora sostanzialmente dopo che, grazie a un sistema economico globale a guida occidentale, sono diventati dei colossi economici, allora è ovvidente che rivendichino diciamo un maggior potere decisionale anche dal punto di vista politico e militare. Questo va da sé. Come abbiamo visto, il multipolarismo non è una realtà di fatto già compiuta, è un processo di transizione ancora in corso, transizione non ovviamente priva di conflitti anche molto accesi, come quello ucraino, o come quello che potrebbe scoppiare intorno al controllo di Taiwan, e non di meno esso consiste in un assetto internazionale in termini di distribuzione del potere, in cui rispetto alla presenza di un'unica superpotenza, come negli ultimi trent'anni, o di due superpotenze con i loro blocchi in lotta uno contro l'altro, si formerebbero diversi blocchi, diversi grandi potenze, che intratterebbero tra loro a un rapporto molto dinamico, con relazioni che possono anche cambiare sulla base di dossier diversi, di scacchieri differenti, e quindi questo favorirebbe necessariamente negli stati minori, tanto le potenze regionali quanto anche i stati più piccoli, la possibilità di un multiallineamento, c'è la possibilità ovviamente di intrattenere relazioni differenti con paesi differenti, mantenendo dunque una maggiore libertà d'azione, potendo anche giocare tra l'altro sui conflitti tra le grandi potenze, rispetto invece a una prospettiva in cui l'egemone è uno solo e quindi gli stati minori sono costretti ad allinearsi adesso. Lascio a voi decidere se questo sarà un fenomeno positivo oppure negativo.